Nuova Renault Clio è dotata di un sistema di rilevamento ostacoli che assiste il conducente durante il parcheggio grazie ai sensori a ultrasuoni nei paraurti. Questi rilevatori possono essere collocati in tre configurazioni a seconda dei modelli, nella parte posteriore, nella parte anteriore e in quella posteriore o attorno al veicolo. Questo ausilio per il parcheggio scansiona permanentemente l'ambiente al di sotto dei 10 km orari. Quando si è in retromarcia o quando viene rilevato un ostacolo in marcia avanti, si vede questa immagine. Il park assist e il rilevamento degli ostacoli ti guideranno durante le manovre, in particolare durante il parcheggio. Come? Misurando la distanza tra il tuo veicolo è un ostacolo grazie ai sensori a ultrasuoni. Questa misura produce segnali sonori che aumentano la frequenza man mano che ci si avvicina all'ostacolo. Le aree della barra vicine all'ostacolo cambieranno colore dal verde se l'ostacolo è lontano all'arancione se è vicino. Quando l'ostacolo si trova a circa 20 o 30 cm dal veicolo, il suono di avvertimento viene messo continuamente e la barra nell'area dell'ostacolo diventa rossa. Il sistema viene disattivato quando si viaggia a velocità maggiore di 10 km orari. Allo stesso modo quando viene rilevato un ostacolo mentre il veicolo è fermo da oltre 5 secondi, in un ingorgo stradale ad esempio, park assist verrà disattivato. Infine, anche il cambio in folle o in posizione N o P con un cambio automatico provoca la disattivazione. È possibile decidere anche di attivare manualmente park assist ad esempio se si ha un gancio di traino o un rimorchio che copre i sensori. Per far ciò, selezionare impostazioni nel sistema multimediale EasyLink. Quindi, nella scheda veicolo, selezionare park assist. Infine, sposta il selettore su off per la zona che si desidera disattivare. Anteriore, posteriore o laterale. Se non si dispone di un sistema di navigazione, premere questo interruttore per disattivare l'allarme audio e il display sul quadro della strumentazione. Tenere presente che è possibile disattivare l'audio del sistema o regolarne il volume passando al menu impostazioni, quindi sensori di parcheggio e suono. Quindi, utilizzare i pulsanti più e meno per aumentare o diminuire il volume o per attivare e disattivare l'audio. È anche possibile scegliere tra diversi avvisi in tipo di suono. Per il corretto funzionamento del sistema, assicurarsi che i sensori non siano ostruiti da sporcizia, fango o neve. Se il sistema rileva un malfunzionamento, viene emesso un segnale acustico per circa 3 secondi ogni volta che si inserisce la retromarcia e sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio sensori di parcheggio da controllare. In questo caso contattare un tecnico Renault. Infine, tenere presente che questa funzione è un ausilio alla guida che non deve comunque sostituire la vigilanza del conducente. Durante la manovra, prestare sempre attenzione a eventuali eventi improvvisi che possono verificarsi e a ostacoli troppo piccoli o troppo sottili come una pietra o un palo. Ora conosci tutti i vantaggi del rilevamento di ostacoli e del park assist di nuova Renault Clio progettati per garantire il massimo comfort. Buona guida con nuova Renault Clio!